Che cosa succede quando Amazon riceve un ordine da un cliente? Per scoprirlo sono entrato al centro logistico di Castel San Giovanni, a 20 km da Piacenza. Aperto nel 2013, lo stabilimento ha una superficie operativa di 85.000 m2, nel quale lavorano 620 dipendenti. È il Family Day, il giorno in cui i dipendenti possono portare i propri familiari a vedere dove lavorano. Qui, la proverbiale ossessione per la soddisfazione del cliente per cui è nota l'azienda americana diventa ossessione per la formazione, l'organizzazione e la sicurezza del personale. Attenzione maniacale per i dettagli che possono rendere più fluida l'attività è evidente fin dal parcheggio. Qui le auto devono entrare in retromarcia negli stalli per rendere più scorrevole e sicura l'uscita a fine turno. Il primo settore che visito è quello delle merci in arrivo. I prodotti dei fornitori vengono disimballati, codificati e infine assegnati dal software di gestione al settore del magazzino più funzionale. I ritmi di lavoro sono sostenuti, ma anche la possibilità di vedere prese in considerazione le proprie proposte. Alcune idee di dipendenti italiani sono diventati standard per tutti gli stabilimenti di Amazon nel mondo. Tutto è collocato in modo da rendere la composizione degli ordini il più efficiente possibile. Le merci si muovono rapidamente attraverso carrelli, nastri e scivoli. In questa sede non sono ancora operativi i robot introdotti in alcuni centri degli Stati Uniti. Il magazzino è diviso in tre settori. Quello per gli articoli pesanti e di grandi dimensioni. Quello per i prodotti ingombranti e di medie dimensioni. E quello per i prodotti piccoli e leggeri. Il settore dedicato a libri, cd, dvd e piccoli oggetti si estende per quattro piani in altezza. I prodotti stivati sono milioni. L'aspetto più sorprendente è che non sono divisi in modo omogeneo per tipologia, ma in modo quasi casuale. I nuovi arrivi vengono collocati semplicemente dove c'è uno spazio libero. È sufficiente che siano indicizzati con precisione dal software di gestione. I prodotti simili sono tenuti volutamente distanti per ridurre al massimo la possibilità di un errore. Il magazzino è suddiviso in zone. Ogni zona è coperta da un addetto che riceve le richieste di prodotti di sua competenza, li raccoglie e li manda avanti alla fase di composizione degli ordini. Quando tutti i prodotti di un ordine sono stati raccolti, vengono assemblati nella confezione più adatta e preparati per la spedizione. Quindi vengono etichettati e affrancati. La chiusura di un ordine è un incastro stupefacente tra i contributi di diversi addetti, che nel completarsi tra loro garantiscono anche successivi livelli di controllo sulla correttezza dell'ordine. I pacchi sono quindi suddivisi in modo automatico in base alle priorità, alla dimensione e al tipo di spedizione, e condotti attraverso nastri al contenitore del corriere che lo prenderà in carico. In questa fase viene svolto anche l'ultimo controllo di coerenza tra la dimensione e il peso attesi e quelli effettivi. Se non coincidono, il pacco viene trattenuto e riesaminato. Tutto è orchestrato in modo rapido e automatico dal sistema logistico, che sceglie in ogni momento le combinazioni più efficienti tra disponibilità di uomini e mezzi, complessità degli ordini da trattare, dislocazione degli articoli da recuperare, tempi di consegna concordati con i clienti e scadenza di trasferimento dei pacchi agli spedizionieri. È in questo modo che a Castel San Giovanni sono riusciti a far fronte a un picco di quasi 250.000 spedizioni e 400.000 ordini in un giorno solo sotto Natale, un ritmo da oltre 4 ordini al secondo. Vuoi vedere anche tu dal vivo come funziona la logistica di Amazon? Non è più una possibilità ristretta a giornalisti e familiari dei dipendenti.